Allora, ciao ragazzi e benvenuti a gameplay di Silent Hill Qua, cioè, ma, no Shots of the noise Quanto bene, quella Quella percasi, possiamo dire E poi sono tutti gli altri giochi, non sono molto Certo, guarda tutto, va Comunque Vabbè, possiamo cominciare Allora, che io non mi ricordo, a 32 anni da parte, non ho più spazio, quindi immaginate che questo proprio qua Dei sinde più spazi per tutti, tutti i loro conservati Mi dà quelli fare, quindi prendono tanto E allora, che serve, l'ho capito Senza, no, scusate Aspetta Sto per, aspetta E dimmelo il profilo che ho Che ho ora Ciao 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 Ecco Ecco che dovrebbe essere Scusate che dovrebbe essere Scusate che va beh, è un gioco, in inglese Non capirà l'inglese Allora Allora Grazie a tutti. 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 No, no. Buono. 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 Buono.